e poi è carina la nostra Selin col cagnolini invece seguite la clip il seguente è venuta passata da Alessandro Basciano allora Sofì diceva che Selin in questo clip vedete il video precedente mio diceva mamma 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 Alessandro Basciano invece sostiene che la bambina dica papà 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 ed è davvero contento c'è un ritorno di fiamma con Ale Basciano nonostante questi occhialetti beh i geni non sono male i geni non mentono Selin ha un papà e una mamma veramente stra abbonarsi per dirla tra di noi vi lascio così ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti